Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Filo Connesso Oggi andiamo a vedere una cosa molto ma molto interessante e cioè le prime configurazioni da fare con ESP01 e Blink Per chi non lo sapesse Blink è un'applicazione che permette di creare dei pannelli domotici e ci permette poi di inserire dei led display virtuali che ovviamente corrisponderanno poi ai vari controlli, pulsanti, display eccetera eccetera che abbiamo collegato all'interno del nostro impianto domotico Questa applicazione è gratuita tuttavia all'interno dell'applicazione è possibile acquistare dei pacchetti energia più energia abbiamo a disposizione più controlli potremmo inserire all'interno del nostro progetto Potete installare Blink dal Play Store Io adesso ho un cellulare Android quindi lo installo dal Play Store Una volta installato dovete inserire indirizzo email e password per creare un account Una volta creato l'account potete andare a creare il vostro progetto dargli un nome, selezionare il tipo di scheda su cui andare a lavorare e successivamente salvare il nostro progetto Dovete configurare adesso l'AID di Arduino Potete utilizzare il link che trovate in descrizione inserirlo nelle preferenze dell'AID di Arduino Una volta inserito io vi consiglio di fare una cosa Cliccate sul link che trovate all'interno delle preferenze di Arduino e entrate nella cartella delle preferenze Cancellate tutti i file al suo interno Questo ve lo consiglio nel caso in cui avete già effettuato delle installazioni precedenti dell'ESP8266 in questo modo andate a evitare che l'AID vi faccia errore durante qualsiasi compilazione o il caricamento della scheda Adesso che abbiamo fatto questa cosa dobbiamo andare nel menu scheda e successivamente andare su gestore schede Da gestore schede cerchiamo ESP8266 e installiamo la scheda che esce dai risultati della ricerca Una volta fatto questo dobbiamo andare nel menu sketch andare su include libreria e successivamente andiamo su gestione librerie Da qui scriviamo blink e installiamo la prima libreria che appare in cima alla ricerca Adesso una volta fatto questo dobbiamo collegare il nostro ESP01 ad Arduino e lo facciamo seguendo lo schema che trovate giù in descrizione Una volta collegati tutti i cavetti ad Arduino andiamo a inserire il cavo USB ad Arduino e collegarlo all'AID Nel menu porta selezioniamo la porta collegata ad Arduino e nel menu scheda andiamo a selezionare Generic ESP8266 Nel menu esempi di Arduino invece selezioneremo blink successivamente Boards su Wi-Fi e infine ESP8266 Standalone Per fare le prime configurazioni andiamo ad inserire l'outcode che viene inviato automaticamente alla nostra email quando generiamo il progetto su blink successivamente inseriamo nome e password della nostra connessione Wi-Fi Occhio per tutti questi parametri non cancellate le virgolette e infine andiamo a caricare il nostro codice sulla nostra scheda Una volta fatto tutto questo abbiamo la nostra scheda ben che configurata creiamo un pulsante da blink e andiamo ad impostare vari parametri che ci permetteranno di gestire un relay a distanza Prendiamo il pulsante più semplice e lo inseriamo all'interno del nostro progetto Successivamente scegliamo il pin GPO2 Una volta scelto il pin GPO2 da applicare a quel pulsante possiamo andare a collegare un relay al pin GPO2 Però prima di tutto dobbiamo togliere il positivo sul CHPD che permette di mandare l'ESP01 in modalità di programmazione e ovviamente andremo a togliere anche il DuPont dal GPO2 in modo tale da andare a collegarci il nostro relay Una volta che abbiamo fatto tutto questo basta riavviare l'ESP01 staccando l'Arduino dall'alimentazione e ricollegandolo e il nostro relay dovrebbe partire Il collegamento che vi ho mostrato funziona per tutti gli ESP01 Io spero che questo video vi sia di aiuto e soprattutto vi sia piaciuto mettete mi piace se vi piace il video commentate giù nei commenti se avete bisogno di una mano consigli o qualsiasi altra cosa magari solo per dire bello sto video e io vi do appuntamento al prossimo video e non dimenticatevi iscrizione e condivisione Ciao a belli e un saluto da Filo Connesso